Buonasera, manca poco alla fine della scuola, mancano due settimane, che bello! Perché ovviamente tutti gli studenti d'Italia non ce la fanno più andare a scuola, ascoltare le lezioni, ascoltare quei professori matti, cioè non ce la fanno più, basta! A parte me che io ho finito scuola il 2 maggio, ma... cambiamo discorso! Quindi fra due settimane basta libri! E quindi inizierà l'estate finalmente, quindi festa, mare, vacanze, viaggi, di tutto, che bello! Ovviamente al termine delle scuole ci saranno le feste di fine scuola, dove vedrai tutti i tuoi compagni di classe e pure il tuo compagno di banco ubriachi! E' esilarante come cosa! Per esempio io sarò il 13 giugno al SIS di Genova con il pagante, cioè dovete venire perché ci divertiamo tutti insieme e sbocciamo insieme! E poi d'estate è il momento per viaggiare, per vedere nuovi posti, per andare alla casa al mare, per incontrare i tuoi amici d'estate! Per esempio io trascorrerò la maggior parte della mia estate a Rosignano Solvè in Toscana, dove rincontrerò finalmente i miei amici e compagni di avventure! Sarò anche dal 23 al 30 giugno a Gallipoli con scuola zoo, quindi chi viene stiamo insieme, ci divertiamo, moriamo insieme e poi andiamo a fare il bagno! Poi questo è il periodo dove le ragazze si fanno mille pippe mentali per la prova costume, dove stanno facendo sport, super diete, cose improponibili per essere super fighe al mare! Quindi spero che passiate un'estate indimenticabile, dove spero che vi divertirete, farete tante cose con i vostri amici, che farete tante nuove esperienze, che farete un sacco di feste! Soprattutto vi dovete rilassare, basta libri, basta scuola, finito per tre mesi! A parte gli studenti che verranno rimandati, per voi mi dispiace!